Oltre alla nostra bevanda di culto Forever Aloe Vera Gel e al fruttato e fresco Forever Aloe Berry Nectar, ora c'è anche la gustosa bevanda all'aloe Forever Aloe Peaches, in un nuovo look. La nuova formulazione del prodotto combina la nostra esclusiva Forever Aloe con il sapore dolce delle pesche maturate al sole. Forever Aloe Peaches è ricca di vitamina C, per di più senza conservanti. La purea naturale di pesca e il succo concentrato di ua bianca conferiscono la bevanda un gusto dolce e delizioso e fanno di Forever Aloe Peaches una bevanda popolare e amata da tutta la famiglia. Vorrei adesso spiegarvi che cosa rende la nostra aloe così tanto speciale. Tutte le nostre 50 milioni di piante di aloe vera provengono da coltivazioni di nostra proprietà e sono coltivate, raccolte e filettate a mano, in modo da estrarre in maniera molto delicata il ricco gel intero entro poche ore dalla raccolta e fornirti il più puro e fresco gel di aloe vera possibile. Questo metodo conferisce ai nostri prodotti, a base di aloe vera, una consistenza e una purezza particolari, motivo per cui sono stati i primi a ricevere il sigillo dell'International Aloe Science Council. Il contenuto di Acemannano, un polisaccaride importante per il corpo e presente nel nostro gel, è due volte più alto di quello richiesto per questo tipo di certificazione. È pertanto importante sapere che già due bicchieri da 150 millilitri di Forever Aloe Peaches coprono l'intero fabbisogno giornaliero di vitamina C. La vitamina C aiuta a mantenere un normale funzionamento del sistema immunitario e a ridurre l'affaticamento, il che rende Forever Aloe Peaches un ottimo caricabatterie energetico per grandi e piccoli. Nelle giornate particolarmente stressanti o ogni volta che volete fare qualcosa di speciale per voi stessi potete tranquillamente versarne un altro bicchiere. La nostra bevanda senza glutine con succo di frutta naturale concentrato è adatta per vegetariani e per vegani ed è ora possibile in tetrapacca, confezione pratica e salvaspazio, che è composta da sei strati di materiale completamente riciclabile e utilizza meno risorse nella produzione e nel riempimento. Questo recipiente ci ha permesso maggiore flessibilità nella formulazione del prodotto in modo che il nostro Forever Aloe Peaches ora è completamente privo di conservanti. Ed ora vediamo come funziona esattamente. Durante il nostro processo di produzione, il gel grezzo, estratto dalle foglie di aloe vera, viene lavorato e riscaldato rapidamente entro e non oltre sei ore dalla raccolta. Questo riscaldamento rapido elimina germi e batteri in modo sicuro e mantiene la freschezza del prodotto. Una volta che gli altri ingredienti vengono combinati con il gel di aloe vera, il tutto viene nuovamente riscaldato rapidamente per garantire che questi ultimi non ne alterino la qualità. Tetrapacca ci permette di offrire una formulazione del prodotto senza l'uso di conservanti chimici. In questo modo, Forever Aloe Peaches può essere prodotto in modo ancora più delicato, mantenendo una qualità ottimale di sostanze nutritive. Il nostro Forever Aloe Peaches è ora molto più naturale, fresco e fruttato. Sono sicura che sia tu che i tuoi cari ne sarete davvero entusiasti. Ti auguro buon divertimento e tanto benessere con i prodotti Forever. Grazie per la visione!